Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo video, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Un call del mese di ottobre, siamo a dicembre ormai, ma eccolo qua ragazzi, scusate per il ritardo, però come sempre l'importante è averlo fatto, poi quando arriva ci si può passare sopra, no? Vi ricordo di seguirmi su Instagram, questo qua è il mio profilo, e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un video. Visto che ultimamente YouTube sta facendo un po' le bizze, cioè non si sta, non sto capendo che cosa sta facendo, però non avvisa quando escono i video, non li metti in bacheca degli utenti, non si sa quello che sta facendo ragazzi, quindi magari venite a controllarmi ogni volta se pubblico qualcosa, oppure seguitemi su Instagram che vi avviso sempre e sì, quindi vi ringrazio se fate queste cose. Nel mese di ottobre, devo dire, sono stato relativamente bravo, non sono stato poi così male per quanto riguarda le nuove entrate nella mia libreria, però ci sono delle entrate davvero meravigliose, quindi non vedo l'ora di farvi vedere che cosa ho preso, cosa mi è arrivato e sono un sacco felice di tutte le novità che ci sono nella mia libreria, quindi cominciamo immediatamente. Cominciamo dal libro che mi è stato inviato dalla PM che ringrazio tantissimo, e si tratta del malefico caso alla Store Control Reading di Alexandra Brecken. Vi ho già parlato di questo libro in più occasioni, è il primo libro di una serie middle grade, quindi rivolto a un pubblico di ragazzi, ma che secondo me non è proprio il target di riferimento. È un romanzo che mi è piaciuto molto, comunque se volete saperne di più basta andare a vedere i miei precedenti video, come il wrap up e se non sbaglio le letture autunnali, forse non ricordo quale video è con precisione, però ne ho parlato parecchio. È un libro che mi è piaciuto tanto, anche se mi aspettavo qualcosina in più, però credo che, visto il finale, i prossimi volumi saranno molto, molto interessanti, le cose si faranno ancora più fighe di come è stato qua. Ho amato i personaggi, ho amato Alastor, che è questo demone molto sassi, crudele, spietato, l'ho adorato tantissimo, più che demone è un spirito, scusate. Lo consiglio tanto se cercate una lettura comunque non impegnativa, molto tranquilla, ma allo stesso tempo davvero un sacco, un sacco carina. Ho apprezzato molto questo libro, quindi sono un sacco curioso di sapere come continuare la storia di Prosper e Alastor. Poi abbiamo un libro che in verità ho preso a settembre, ma mi sono scusato di farvi vedere, che ho trovato usato, e si tratta di Champion di Mary Lou. Questo qua è il libro stuprato della trilogia di Legend, stuprato perché, poverino, perché rispetto agli altri due ha dimensioni diverse. Cioè, non matcha manco per niente con i precedenti, però, che dobbiamo fa? Purtroppo io non ho mai finito la trilogia di Legend, sarà una delle prime che finirò nel 2019, cioè a gennaio vorrei rileggere Legend che io avevo adorato. È un distopico meraviglioso, avevo adorato Day, il personaggio principale, veramente bellissimo, e voglio finirla assolutamente, anche perché Mary Lou tornerà a scrivere di questa trilogia, e quindi devo finirla assolutamente, purtroppo, appunto, la PM ha deciso di fare questa cosa e il libro è più piccolo rispetto agli altri, che poi l'edizione, cioè così, mi piace anche di più rispetto alle altre due, perché è più piccolina, è più carina, quell'altra erano, tipo, c'ho quei formati che non mi piace moltissimo, però, ecco, non matcha con le altre, quindi io sta cosa non la comprendo, per quale motivo, perché. Poi ci hanno pure tenuto le covertine originali, quindi bravi, però fanno ste cavolate. Non ci havate un po' più de carta per stampà? Non lo so, non ho idea. Altro recupero che devo assolutamente leggere entro dicembre si tratta di Winter di Marissa Mayer. È il quarto e ultimo libro della serie delle Cronache Lunari, devo leggerlo assolutamente entro dicembre, cioè, per forza di cose, devo portare alla conclusione questa serie entro quest'anno, sono categorico su questo, non vedo l'ora, tra l'altro, di sapere come continuerà, anche se ho un po' paura di leggerlo, perché rispetto agli altri libri non ho sentito recensioni così tanto positive su questo libro, cioè entusiaste più che positive. È un mattone, non sembra, ma è scritto molto più piccolo rispetto agli altri, e quindi vedremo come andrà. La copertina, però, è bellissima, è veramente meravigliosa. E quindi sì, ce l'ho, adesso devo solamente leggerlo. E segnatevi questa cosa, entro dicembre io devo averlo letto. La Sperlian Kapfer, che ringrazio anche qui tantissimo, mi ha mandato lui, ovvero Darkest Minds 2, una ragazza pericolosa, ancora di Alessandra Bracken. Secondo libro della trilogia di Darkest Minds, l'ho già letto, mi è piaciuto davvero, davvero un sacco, ragazzi. Inizialmente il libro fa un po' fatica a ingranare. Ci sono le prime 100-120 pagine in cui non è che è noioso, ma non riesce a prendere il via. Poi ha una certa, mettiamo la quinta, e si va, che è una meraviglia. Ho apprezzato davvero un sacco questo secondo romanzo. Non so se è più o meno rispetto al primo, ma sicuramente in maniera diversa. Una delle cose che mi sono piaciute di più è il personaggio di Ruby. Ruby in questo romanzo è cresciuta in una maniera incredibile. Ho adorato tutte le sue decisioni, il suo modo di pensare. È ancora una ragazza che ha tanti dubbi, ha tante domande, è tanto insicura, però comunque cerca di mettere questi dubbi, queste insicurezze da parte per diventare una ragazza ancora più forte. Ruby mi ha davvero sorpreso, anche nel primo libro mi era piaciuta davvero tanto, ma qua l'ho rivalutata ancora di più. E niente, adesso non vedo l'ora di leggere il terzo, e poi speriamo che pubblicheranno anche il quarto, che sarebbe il punto di vista di Zoo, che è uno dei personaggi di questa serie. E niente, non vedo l'ora che esca il terzo, che uscirà il 27 novembre, e speriamo che sia una degna conclusione. Poi la Bonpiani mi ha inviato lui, ovvero la caduta di Gondolin di Tolkien. Ho intenzione di leggere questa serie e anche gli altri libri di Tolkien che mi mancano a dicembre, vorrei leggerli sotto Natale, quindi spero di riuscirci. Ringrazio veramente tantissimo la Bonpiani per avermi inviato una copia di questo romanzo, che è qualcosa di meraviglioso. All'interno abbiamo illustrazioni del magnifico Anna Lee, che ha illustrato la maggior parte delle cose del Signore degli Anelli, e sono tutti disegni spettacolari. Io ogni volta sono stupito dalla bravura di quest'uomo, sono meravigliosi. Anche se ho un sacco di cose da leggere, mi piacerebbe leggerli sotto il periodo natalizio, anche perché mi era preso questo schizzo di rileggere Il Signore degli Anelli dopo così tanti anni, però non credo che posso, visto che ho tante cose da leggere, e questo sarebbe un degno sostituto. Quindi vedremo se ci riuscirò, intanto è uscito. Poi state pronti perché sta per arrivare un book porn enorme, ragazzi, ma davvero enorme. Questa meraviglia qui, ovvero The Queens of Ennis Lear di Tessa Gatton. Parliamo della bellezza di questo libro, perché è qualcosa di meraviglioso, è stupendo, e io sono un sacco curioso di leggerlo, perché è il rivisitazione retelling di King Lear di Shakespeare. La storia ricorda un sacco quella della battaglia delle tre corone di Candara Blake, perché anche qui vediamo tre sorelle che sono tutte quante eredi della corona del trono, e c'è magia, ci sono battaglie, c'è tanta guerra, quindi sono molto curioso di leggerlo, anche perché il fatto che sia un retelling di King Lear, di Re Lear di Shakespeare, mi ispira ancora di più. Quindi spero di non rimanere deluso. È un mattone, davvero un mattone, quindi ho anche un po' di timore nel leggerlo, però spero di farlo al più presto, sono davvero molto molto curioso di leggerlo. Non so esattamente se sia una trilogia, non ho ben capito, però la curiosità su questo libro è a mille. Se qualcuno di voi l'ha letto mi faccia sapere cosa ne ha pensato. Ovviamente non è ancora edito in Italia, non so se verrà mai pubblicato, però la c'è solo in inglese. Poi abbiamo una delle mie prossime letture e io sono... Vi giuro, allora è stato un'epopea recuperare questo libro e finalmente ce l'ho e io non vedo l'ora di leggerlo. Questo qua è un retelling della Bella Addormentata nel Bosco e vi giuro che questo libro mi ha chiamato fin da subito. Ho letto la trama e ho detto, ok, tu potresti essere una scoperta meravigliosa, davvero meravigliosa. Ho aspettative molto molto alte, ma davvero davvero un sacco alte. Non è molto conosciuto questo libro, io l'ho trovato per puro caso e ho fatto una fatica immensa a recuperarlo perché su Amazon costava tantissimo. Quindi poi l'ho preso su Book Depository, ho aspettato, ho aspettato, ho aspettato, ho aspettato. Non arrivava mai, sono andato a vedere e ho visto che mi avevano ridato i soldi, non so per quale motivo, quindi non me l'hanno mai spedito. Poi l'ho trovato su IBS e quindi l'ho preso, mi è arrivato ed eccolo qui ed è meraviglioso. Sono veramente molto curioso, le aspettative sono altissime, la copertina è... parliamone. Penso sia proprio la mia prossima lettura e non vedo l'ora. Vi farò sapere e spero di leggerla appunto dopo aver finito la lettura che ho adesso. Sì, quindi speriamo che le mie aspettative siano soddisfatte. Altro book porn e altra soddisfazione enorme, Vicious di Victoria Schwab. Volevo avere questo libro da tantissimo tempo perché per molte persone, anche Sara lo considera il suo libro preferito di Victoria Schwab, mi ispirava molto perché i due personaggi principali sembrano due personaggi molto molto particolari, molto strani dalla dubbia moralità, quindi sono un sacco curioso di leggerlo. Costavano un sacco l'edizione di questo libro e siccome ho trovato questa su Book Depository a poco, tipo 15 euro, una cosa del genere, fidatevi a poco visto che stanno sui 20 euro, ho detto ok, prendiamolo immediatamente ed eccolo. Ed è ragazzi stupendo, è qualcosa di meraviglioso. Purtroppo ho visto che in particolare Vicious non si trova più in questa edizione, ultimamente non so se ritornerà disponibile. Infatti ho intenzione di prendere Vengeful K, il secondo, al più presto perché ho paura di non trovarlo più e li voglio entrambi in questa meravigliosa edizione. Anche Vicious sarà sicuramente una delle mie prossime letture perché lo desiro da tanto tempo e adesso che ce l'ho qua lo voglio leggere assolutamente ed è ragazzi qualcosa di meraviglioso. La copertina è tipo di cartone ed è stupendo, è veramente qualcosa di meraviglioso. Continuiamo con Obsidio, DJ Christophe e Amy Kaufman, due persone tremende. È uscito il 30 ottobre questo stupendo libro che io ho già letto, l'ho divorato completamente, non vedevo l'ora di sapere come sarebbe continuata, come sarebbe finita anzi questa trilogia. Ho amato questo libro, ho trovato il finale davvero meraviglioso. È stata un'ansia perenne, avevo paura di voltare pagina ogni santissima volta, ma ve ne parlerò meglio nel World Cup. Io vi consiglio un sacco la trilogia di Illumina, è stata una delle trilogie più belle che abbia letto nel 2018. Mi ha dato una soddisfazione immensa, ho amato i personaggi, Mick, Anna, e quindi sono stato un sacco felice di averla recuperata quest'anno. Io ve la consiglio caldamente perché è qualcosa di meraviglioso. E per finire abbiamo Black Shadow, la dama bendata di Sebastian de Castel. Questo è il secondo libro della serie Shadow Black, che è una serie middle grade. Io ho letto il primo, lo avevo amato, mi era piaciuto davvero un sacco. Ne ho fatto anche la recensione, quindi ve la lascio nelle schede. La consiglio davvero un sacco questa serie perché, ok, è per un pubblico di ragazzi, ma comunque è leggibilissima da tutti quanti, secondo me. Ha quel giusto connubio tra adolescenza e un lettore un po' più adulto. Cioè un lettore adulto potrebbe apprezzarla, secondo me, quanto merita. Sono molto curioso di leggerlo, davvero, davvero tanto. L'ho preso però solamente perché c'era il 25% di sconto, quindi l'ho pagato solamente 12 euro. E non è... non credo che lo leggerò tra poco, ecco, perché ho altre cose da leggere che hanno la precedenza. Però intanto l'ho preso visto che era in un sconto molto consistente. Cioè aveva uno sconto molto consistente. Comunque ve la consiglio, ripeto, andate a vedere la recensione, se no l'avete ancora fatto. Se ne sta andando, praticamente, mi sta abbandonando. Spero che il video vi sia piaciuto, ditemi voi che cosa avete comprato a ottobre. Se avete comprato alcuni dei libri che ho comprato io, cosa vi ispira di questi libri. Sotto vi lascio comunque nell'info box tutti i link ad Amazon per poter acquistare ognuno di questi libri. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video, ripeto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!